25 aprile 2020, Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus, trasmissione del testo integrale con 55 elettrici e lettori di La Carezza e la Mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiani. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile.